Cesena, in questo momento Cesena sarebbe salvo e la Sampdoria in Serie B è talmente regolare la posizione di Bruttani sulla verticalizzazione di Giaccherini il tocco con l'esterno destro, anche pregevole, sull'uscita di Giri non è che termina prima sul palo e poi in rete gol dell'1-0 dunque per il Cesena si fa il trabato